ragazzi ben ritrovati su ritrovati con l'ottavo capitolo danciarte e si comincia da col botto che cavolo ci eravamo fermati qua dove mancano ancora le guardie da ammazzare e una su mi mancano altre mille essendo ottimisti e aspettiamo aspettiamo eccolo qua ok ok ho sbagliato qualcosa è incredibile che cavolo come ho fatto a resistere per tutto sto tempo che mi spara che mi spara aspettiamolo aspettiamo non come una morda sta fermo morto nascondiamoci eh lo so come basta che cavolo aspettate ecco qua e siamo già morti di nuovo aspettate devo sistemare una cosa aspettate aspettate come cazzo si fa qui sentite non me ne frega va bene lo sistemiamo un'altra volta e evitiamo di andare giù e andiamo su piuttosto io andrei su perché è più difficile che mi vedano eh sì 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 ecco sapevo qui e vieni su fatto ok attività furtiva fallita di nuovo cazzo non ero molto ok cerchiamo di giù benissimo speriamo la secca ho quattro li ha ritardato guardalo proprio non si cura appena lo scoperto è morto facilmente questo non so quello la mi sa quello mira di merda però ce l'abbiamo fatta dai come come c'era l'aria nata cosa facevo che c'è detto perché parlo poco sono concentrato ecco morto benissimo a differenza di sì io sono concentrato durante i giochi non come mister ebook che sparma e basta cazzissimo cerchiamolo di ok pessima scelta pessima scelta pessima scelta e adesso moriamo cerchiamolo di ok ok ho capito cerchiamolo di cercare ci hanno già visti benissimo ho visto qualcosa chi? sai no non è che ci gira quello ma dobbiamo andare oltre basta o dobbiamo andare oltre e ammazzarli tutti perché sono due cose differenti quello girati bene ok mettiamo questo qua andiamo di sopra credo e adesso ci vabbè non è mai quasi non è mai come sembra aspettate aspetta aspetta guardo cerchiamo di fare le rotoline così non ci vedono anche se ci mostrano questa è spar ah no solo ritirarsi un calcione piano 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 ok qua qua dove 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 il fucile? avvertimi e dove? ok lì cadiamo in testa e lo ammazziamo oppure rischiamo oppure eh ci ha visto? via 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 sempre più su ok provate a beccarmi qua ma pure che puttana ok non è il posto migliore per stare coperti qua eh ancora la magno benissimo ok cerchiamo di non riesco a beccarlo da qua non riesco a beccarlo da qua giù 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 e saltiamo cerchiamo di saltare sulle scale ecco qua ora siamo coperti sì ma dove sono? ok scendiamo è un'azione inventata ma se non li vediamo dobbiamo fare qualcosa c'è nessuno ecco ne uno ah no e se eh volevi fregarmi eh sto ronfetto dai esci eh è morto scusa eh da dove che mi sparo non capisco ok uno là in fondo raffiche verevi controllate ma che casino che ha fatto e giusto piuttosto ma non posso sparare oh eh ti piacerebbe ora stiamo già fuori redendo mezzo ne vedo un cavolo eh che vero oh dove sto dov'è stai giù stai giù dov'è che mi sparano da dov'è che mi sparano ah no è lui ecco c'è uno stranzo qua che eccolo qua eccolo qua esci un attimo vai 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 come fai a non beccarlo perché spari alla cieca ma fatto morto di fortuna ok faccio ammetto faccio un po' cagare una delle poche volte che ho adesso a schivare le granate eh ma dai però parlo opposto a dire poco dov'è sto che ho detto non è non è la posizione questa cooperativa no? abbiamo uccisi tutti ma però eh lo so lo so non dirlo a me ma non posso ricominciare ogni volta che fallisco cioè dovremmo andare avanti cosa faccio interrompo il video ogni cazzo di volta ok il portone con un buon indizio per ecco infatti il portone è uguale a quello di prima si mi aiutami dai ok 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 adesso io aspetta una grossa è qua se mi mancano altre due giù giù scommetto giù 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 scommetto che questo palo è messo qua apposta per fare un saldo di qua no? tutto calcolato adesso dovremmo saltare su un ingromo di sassi messi a caso per arrampicarsi mi ha trovato la croce in alto è lì che Eberi ci vuole portare non fai sapere che è quella quella in alto aspetta ne manca una di croce vabbè abbastanza spero sia giusto o meno era lui? stiamo andando bene ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi accidenti cosa vuoi che faccia? beh tieni in caldo il motore un bombardamento un bombardamento sottomarina fuori discussione? credavo proprio di sì adesso dobbiamo di qua esatto rampino sempre efficace abbiamo poche punizioni con la capo però vediamo che sono un po' troppi uomini qua come fanno a non vedermi che sono qua? da parte si vabbè ma si è girato apposta questo lancio ma si vado la l'ho scoperto tanto cosa vuoi che mi facciano? mi ammazzano e basta no? dai che mi stanno ammazzando si ma dai c'ero quasi dopo smetterà di fare lo spericolato adesso su parchiare io andrei di qua ok e non c'è un cao no no giusto giusto ora dobbiamo aspettarli un po' più vicino aspettiamo che è un po' strano che non guardi giù ne parlavi tu ho detto lascia perdere no detto vabbè o ci scopriva se no lol ti sarebbe piaciuto esatto ora finché avrei controllato funziona sempre credo ce ne sia un altro e pensi bene bastano questi dai non servono altri sono troppi corre la torcia giro a vuoto tesoro ah no me l'aspettavo questa dov'è che l'hai trovata scusa? quella? ok su aiutino ma di giù la scala o cosa? eh dai lo fai apposta come non ci riesci oh io aspetto quale? dove sei? dove? dov'è? no 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 ho capito e salì per favore ho capito adesso mi tiro su su e ci siamo qua anche noi ora possiamo andare non credi su fuori il rampino fuori il rampino entra il rampino dove? hm ok è un rubio perchè? perchè? perchè mi sono arrampicato là? scusate che debba andare giù? ma non lo so e lui sta contornando ma io non so dove andare mi sa che veramente che deve buttarmi giù ahia ha fatto male oh io sto provando qualcosa di sto provando qualche soluzione sto tornando a casa eee altro saltino di qua posso andarsi sicuro bene vedo ci sono molti appigli su 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 sinistra 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 adesso saltiamo giù e dove salto ora? ah di qua ne ha un po' troppi di rampini no? ce l'abbiamo fatta merda cosa? ora si sfacella dove devo andare? ma capisco in qua non abbiamo ancora finito non abbiamo ancora cominciato piuttosto nel senso che vorrei che devo andare su oh qua c'è un blocco non lo so è un teso no no è acqua ah si si di qua è infatti era più probabile di qua in su ah devo andare su un po' lentino eee dove che devo saltare? eeeh resto infigliato qua così per sempre pipistrelli 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 cazzo pipistrelli ci manca solo batman eeeh eeeh ecco un fuoco si spaccatuto che ci abbiano sentito? io che lo dissi credo sono sempre le primi a spaccarsi le rocce eeeh ma dai e le scale? e le scale? si si ma anche te però un po' potrò una questione genetica ah adesso e dove vado ora? non ti raggiungo da qui ah hai capito uno due tre fatto ora dobbiamo cercare di raggiungerlo cavolo si 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 beh stare a rampicarsi su le rocce con la neve ma però il massimo per le dita fatevi delle mani bioniche no? e allora non puoi non puoi commentare? allora la croce e toccherà sotto la croce grande ma io sotto la croce non vedo niente ma su serie non vedo un cavolo? ah quella è la croce niente taglieremo per l'interno questa c'è? ah grotta grotta interna capito? c'è non ci passa di là perfetto perfetto ah no pensavo che si fosse la te guardia ecco l'ho detto io ci sono sempre questi non puoi certo lo devi aspettare giù ora dobbiamo solo cercare di non far casino come le solite volte stiamo avvicinando come puoi sapere come puoi saperelo? ok i nodi qua è troppo scontato dovremmo capito divertente wow pensavo di essere morto ok dobbiamo aspettare che ritorni qua così lo potremo uccidere silenziosamente ma io devo appazienza piano 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 è morto ora dobbiamo uscire questo poco su eccolo la cerchiamo di contarvi 1 2 3 4 5 potremmo farcela sembra che che cavolo ma ecco paro sempre dove il resto cavolo è 5 un cavolo ma tira di un po' morto in caduta che fine di ma non ci ho pensato solo eh sono più di 5 un altro che molti di più si fregano con le loro stesse armi spero che siano finiti si speri speri non sono mai così pochi di qua credo io non era la parte giusta ah ho capito si spider mela adesso pessima scelta ma perché mi dimentico sempre di controllare dove vado vabbè almeno li abbiamo fissuti un altro adesso per amore di tutto quello che esiste controlliamo dove stiamo andando ok fatto ora credo qua dentro non si vede cos'è una 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 si dai no 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 ma è la capa che di bella distanza non fa tanto effetto sono tutti distanti allora qualcosa mi dice che dovremmo andare su questa roba esatto ma ci sono finito in faccia ma sto tornando dove ero prima dai giù ah ecco qua dunque dunque sempre nella grotta non essi come il primo sempre mi sto confondendo dinamite sempre utile mi sto la no tengo la mia piuttosto l'altro brotto delle armi rare è che c'è sono le aree apposta ma tu non le usi mai perché hai paura di spercare i proiettili quindi in teoria no niente saltare giù è un'opzione fuori luogo quindi di qua su su e speriamo che non ce ne siano altri e siamo allo stesso punto di prima quindi tutte le strade portano qua e allora andiamo lì a capo pieno aspetta ahhh sto stronzeto se l'aveva ho capito cosa intendevi ecco qua e dobbiamo arrivare no sbagliato sta diventa si sta sfraccellando si sta sfraccellando era qua e con la fortuna che abbiamo lo diventerà come no è sempre stato uno stronto come fai a non aspettarti che si assuma di mercenari è stata la pezza da crollare mezza grotta scommettiamo scommettiamo posso andare per mollarla oh finalmente una volta che va che non si spacca niente e altri altri mercenari nooo improvvisiamo non lo so ha funzionato improvvisare non diremmi che è lo stesso punto di prima per fortuna oh si è battuto storto eh visto non ce l'abbiamo fatta ora è pericolosi proprio qua proprio qua proprio qua devi calcolare ogni minimo centimetro ma come fa ad avere così tanto culo da finire proprio sopra la trave ma vado l'ho visto l'ho visto già morto uno punto e cosa ha scritto guardiamolo un attimo questo qua scrive cose che non so cosa sia no 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 trappola mortale allora trappola mortale profitto trappola mortale casino casino e si quasi che si basta così non so cosa dire ragazzo la tempesta peggiore a che punto siete ah c'è una tempesta qui non c'è una tempesta stiamo entrando nella grotta la grotta la grotta ah questa qua eh potremmo restare isolati per un po' non preoccuparti d'accordo allora vi aspetterò alzato va bene sentiamo dopo ah proprio fuori dall'acqua vuoi proprio che gli sgami no? ci siamo abbiamo allungato parecchio si vabbè hai le ali non puoi superare un burrone si intagliare si intagliare ok dunque questa è la grotta appunto vediamo cosa ci ha lasciato un piccolo secco ci ha lasciato ah no si passa ci sono addirittura delle scale tagliate nella roccia altre scale tagliate nella roccia altre scale tagliate nella roccia e se è una tranquilla ci sono che potrà mai farlo eh mozzarmi una mano? no tutto l'obbraccio dai forza a piedi dai forza a piedi dai forza a piedi si ok proviamo facciamo già le prove con gli uncini no veramente c'erano trappolati gli tranciava tutto come è pulita guarda una decorazione interessante molto bene poesia si sapevo già come no oh cazzo si non può essere di questo è il suo sigillo non Tew morì attaccendo la volta del tesoro con i venuti si o almeno è quello che ci raccontano si o almeno è quello che ci raccontano si si è davvero il sigillo di Tew allora vuol dire che è coinvolto anche lui ma come mmm pensiamoci che cazzo che cazzo a nono capitolo siamo oltre il nostro tempo piacerebbe fare a nono capitolo aspettate un giorno e lo ritroverete quindi ci vediamo a nono aspettateci per domani così bene ti